Quando fu a tavola con loro, prese il pane. Seguono i ben noti verbi che sentiamo a messa, recitò, spezzò, diede. Ci sono gesti impastati di memoria che hanno il potere di evocare momenti della vita, persone e luoghi. I cristiani ripetono il gesto del pane e quel gesto lascia il posto alla presenza del Signore. Ma ogni tuo gesto può rammemorare Cristo e tu stesso ne sei la viva memoria. Sotto il sole obliquo di Emmaus, un gesto buono può illuminare la via e sollevare il cuore. Grazie.